Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV a quest'ultima rassegna stampa di questo 2016 che ormai ha le ore contate. Buongiorno a tutti, siamo in diretta, sono le 7.30, buongiorno naturalmente anche a chi ci segue nel corso delle repliche, anche su internet all'indirizzo occhianotizia.it. Cominciamo dal Santo, oggi è San Silvestro, non utile neanche far aspettare tanto, è stato Papa, parliamo di un Santo che ha vissuto intorno al 300 d.C. Allora, cominciamo con il Sole, il Sole è sorto, l'abbiamo visto, se torniamo un attimo indietro così, diciamo con esattezza, il Sole è sorto alle 7.41, non tramonterà alle 16.41, il cielo per quanto riguarda la giornata di oggi sarà sereno, le temperature sono ancora in diminuzione, sono 0 gradi alle 7.30 qui sulla costa, sono 0 gradi spaccati. Saranno in lieve aumento invece le temperature massime, non avremo grandi venti, insomma alla fine sarà una giornata più o meno come quella di ieri. Per domani invece, domenica, prima giornata di questo nuovo anno che sta per arrivare, 2017, cielo sereno poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio. Per quanto riguarda lunedì 2 gennaio avremo cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori nelle zone interne, le temperature saranno in aumento. Probabile rapido peggioramento dal 3 gennaio, però subito seguito da un ritorno a condizioni stabili anche per le giornate ancora festive, le ultime festive che sono quelle legate all'epifania. Cominciamo dal leggere i giornali, allora andiamo subito sul resto del Carlino perché intanto c'è un'ultima ora, quella che riguarda il Tribunale di Pesaro, un incendio che c'è stato all'ultimo piano, ci sono dei danni nella sede del civile sul posto 4 squadre dei pompieri. Questa è la notizia dell'ultima ora, battuta dal giornale, è riuscito a mettere comunque in prima pagina, mentre la copertina è per la tragedia che c'è stata a Gabicce. E' morto un uomo di 70 anni, mentre inseguiva il cane, il cane che improvvisamente gli sfugge di mano, lui lo rincorre, si tratta di un falegname in pensione che è stato travolto e ucciso da questo furgone. E vedete purtroppo a terra anche le macchie di sangue. Poi nuova bancamarche, i ritardi e le beffe, slitta la proposta di Atlante e sull'acquisto di Ubi a 0 euro, altri dubbi dall'Unione Europea. Poi altre notizie che hanno un richiamo in prima pagina, però adesso andiamo subito su quella di Fano, dove in primo piano c'è la festa di Capodanno di questa sera. Piazza 20 Settembre, dove c'è la festa di fine anno, musica dal vivo e fontane pirotecniche, la neve artificiale regalerà un tocco di magia a tutti. Saranno il brio e l'entusiasmo degli 88 folli, questo è il nome dell'orchestra, del gruppo, a dare il via ai festeggiamenti. E c'è l'altro Capodanno, quello che si tiene a Villa Piccinetti, in una località straordinaria tra Fano e Pesero, dove si domina il mare Adriatico, in silenzio davanti al mare, ma solo fino al tramonto. Poi sotto le barriere antiterrorismo in centro a Fano, così come in altri punti, in altre località della provincia, barriere in centro, fiorisce però la polemica. Le vedete queste barriere poste in Corso Matteotti, sono piccole barriere che sono lì per cercare di attenuare soprattutto la velocità dei mezzi in transito. Anche se quella è zona a traffico limitato, quindi possono entrare soltanto chi ha il permesso, ma in realtà poi chi è malintenzionato non va a chiedere il permesso. La nuova interquartieri si rifà in Lucchi, invece altri interventi ad appena una settimana dall'inaugurazione, all'uscita della rotatore di via Fanella, il marciapiede e il percorso a scuola avranno dei ritocchi. Modificate la segnaletica per impedire la svolta a sinistra da via Trave. Aset e Spa, i fanesi soddisfatti del servizio, sotto invece strade buie prima dell'alba, un pericolo quotidiano senza luce, l'attraversamento della statale tra viale Gramsci e Buozzi e anche in altre zone. In effetti c'è questo spegnimento delle luci un po' troppo anticipato e spesso, soprattutto nelle giornate, non dico come queste dove non ci sono le nuvole, ma quando è nuvoloso il sole quindi tende a tardare, ad illuminare e a schiarire, la città ci si ritrova alle sette ancora con il buio pesto e senza lampioni, senza illuminazione pubblica. Andreani, tuteliamo la Profilglas, seri, con pace parliamo di continuo, l'ipotesi dell'addio della storica ditta suscita preoccupazioni. L'ex guida di Confindustria, ovvero Paolo Andreani, che è stato presidente di Confindustria, dice io credo che l'imprenditore verrà accontentato se si ha un po' di sale in zucca, e certamente guai a lasciarsi sfuggire un'azienda così importante. Questo è l'intervento di Alberto Berardi. E poi i ladri, i ladri a Orciano, che sono entrati dentro una scuola furto con danni all'istituto comprensivo Gio Pomodoro. La notte scorsa è stata forzata una porta, l'ambiente devastato completamente, rubati i soldi delle merendine. Pensate, pochi spiccioli, poiché il grosso era stato prelevato prima delle festività di Natale. Oggi nella chiesa di San Giuseppe a Marotta, l'addio a Tristano Bruschi, l'uomo di 43 anni deceduto dopo l'incidente dell'8 dicembre scorso. E anche qui i rifiuti abbandonati nella strada di mezzo. Trovano spazio questa mattina sul quotidiano del Carlino. Il sito Cucchielli, investimenti a frutto. Siamo a Vallefoglia. Annunciato per metà estate il nuovo piano regolatore. Dicevo, investimenti a frutto nel 2017. Scuole più sicure ed edilizia sportiva. Il progetto Civitas di longevità attiva ci darà un auditorium. E poi le altre pagine, quelle che andiamo a leggere adesso sul Corriere Adriatico. In primo piano, riparti Pesaro, incentivi flop, richieste da solo 10 attività. La no taxia doveva stimolare nuove imprese. Il Comune può stanziare appena 3 mila euro. Mentre per la notte più lunga, rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. San Silvestro, la festa è nelle piazze. A Pesaro si brinderà con Alan Sorrenti. Affano invece tutti sotto l'albero della vita. In piazza a ballare tutta la notte. Queste sono le due pagine che troverete. Pagina 2 e 3 del Corriere. È un San Silvestro scaccia paura. Quella che ci si appresta a vivere appunto tutti i figli delle stelle con Alan Sorrenti. Questa sera saranno a Pesaro. Mentre a Fano la festa comincerà alle ore 22 in piazza 20 settembre dove si esibiranno gli 88 folli. Poco prima della mezzanotte tutti invece sotto un risplendente albero della vita per gli auguri di buon anno. Mentre a Urbino la pista di pattinaggio più grande della regione rimarrà aperta tutta la notte per un insolito e divertente San Silvestro. Ok andiamo allora adesso nella pagina di Fano del Corriere Adriatico. Seri non alza la bandiera bianca. Difenderò il pronto soccorso. Il sindaco sempre contro il sito di Muraglia. Una soluzione che sguarnerà il territorio. Dice ancora il primo cittadino che convocherà un nuovo incontro con i consiglieri regionali. Desta perplessità il silenzio prolungato sul tema della sanità da parte del vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche del Partito Democratico Minardi. Psicosi meningite, raffiche di chiamate in ospedale. Però Agostini rassicura qui non c'è nessun caso sospetto. I vaccini nei tempi corretti. Dunque c'è la psicosi di prendere, insomma di finire con la meningite. I centralini del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 sono letteralmente intasati da chiamati di genitori spaventati. Dopo l'ultimo caso di un bambino toscano di 22 mesi deceduto qualche giorno fa a causa di questa infezione da meningococco C. La paura è arrivata anche nel nostro territorio. Tantissime sono state ieri le telefonate, le chiamate a Fano a Pesaro al servizio di prevenzione da parte di mamme preoccupate di una possibile diffusione del virus. Ferrovia a Fano Urbino diventi pista ciclabile dal tour del degrado alla mobilità dolce. Fumante indica la nuova via. Fumante, lo vedete nel riquadro, è ricofumante del Partito Democratico, mentre nella fotogrande c'è un tratto di questa ferrovia che è ormai in disuso da molti anni. La piscina Dini Salvai invece riapre oggi per l'ultimo tuffo del 2016. È stata riparata l'attrezzatura, vasche usufruibili dalle ore 8 alle ore 14. E poi ancora, sull'altra pagina di Fano del Corriere, Natale nero, regali da 10 euro, sorridono solo i ristoratori. La fotografia della Confesercenti, il direttore Pettinelli contro le date dei saldi. C'è stata tanta gente in giro che però ha fatto pochi acquisti. Il centro storico di Fano lo vedete sempre molto affollato, sempre molto pieno, però il centro è pieno e il portafogli un po' meno. Ogni botto è un'esplosione di paura per i cani. L'associazione Melampo, che ha in gestione il canile, elargisce raccomandazioni e quindi dà un po' il va-de-mecum di quello che dovrebbe fare ogni buon padrone nei confronti dei loro cagnolini o dei loro animali d'affezione, di compagnia. Aset, da gennaio invece c'è un numero verde per raccogliere le segnalazioni. Nuovo sistema a disposizione dei cittadini. Il giornale pubblica anche gli orari nei quali si potrà chiamare. Vale del Cesano, ecco la nuova carta d'identità di Terre Roveresche, ultimo giorno in carica per i quattro sindaci, addio a Barchi, Piagge, San Giorgio e Orciano. Non solo, poi c'è anche chiaramente i colli al metauro, non dimentichiamoci. Orciano, ripartiti i fondi per il restyling del centro, dei cinque ammessi a beneficio solo in due hanno rispettato i termini. La discarica, siamo a Marotta, abusiva non c'è più, avvisato l'ispettore ambientale. Gli operatori di Mondolfo Ambiente sono intervenuti portando via i materassi, le ruote e addirittura i mobili. Varotti e Baldelli, nuovi fondi per Arquata del Tronto nelle zone terremotate, una giornata nei luoghi del sisma per consegnare i soldi della Cioccovisciola, che è l'iniziativa che è andata molto bene, che si è tenuta a Pergola. Da Senigallia, invece, le prostitute sono a portata di click, controlli online dei genitori 007. Gli incontri hard si organizzano su internet. L'associazione dice che le ragazzine possono finire nella rete. Le tariffe vanno dai 20 ai 350 euro, a volte bastano una cena oppure un regalo importante. Spio mia figlia, ammette il papà di una sedicenne, perché dice che lei è troppo disinvolta, per cui meglio che dica che io sia paranoico, che pure, che vederla rovinarsi la vita. Non ha tutti i torti. Poi, a seconda del rapporto che ognuno ha con i propri figli, chiaramente poi diventa tutto più semplice o più difficile. Chiudiamo con lo sport, perché ieri ha giocato il Fano, ma non finisce bene. Per l'Alma Juventus, in trasferta ieri a Sant'Arcangelo, ha perso 1-0. Cade anche a Sant'Arcangelo ed è sempre più ultimo in classifica, da solo. Fatale il gol di Cori nel recupero, ma prima i Granata erano stati superiori. Però questo non basta. Purtroppo, quello che conta è la classifica, quello che conta sono i gol. E purtroppo, ieri, il Fano ha portato a casa un'altra sconfitta. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. Noi ci rivedremo all'anno nuovo, quindi il 2 di gennaio. A nome mio, ma soprattutto a nome di tutta Fano TV, a voi telespettatori giunga l'augurio di un buonissimo e serenissimo 2017. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito.